Buon pomeriggio alla carcere dei Pagliarelli, Palermo. Come in tutte le carceri italiane, anche qui da ieri sera la protesta è dura. Molti parenti dei carcerati e i detenuti stessi sono qui a protestare contro il divieto di colloquio che il decreto sul coronavirus ha introdotto. La protesta qui è stata meno dura rispetto agli altri carceri, qui non sono state né ferite né morti, ma sicuramente anche loro sperano di avere un indulto, sperano di uscire dal carcere. Non so se è per paura del coronavirus o perché vogliono cavalcare questa situazione. Da alcune informazioni alle 19.30 dovrebbe riprendere una protesta dura da parte dei familiari col blocco di via regione siciliana. Secondo alcune informazioni dovrebbe succedere questo. Però possiamo dire che lo Stato rispetto a ieri sera ha riportato l'ordine, le forze dell'ordine sono presenti e vediamo solo alcuni cittadini che stanno protestando al di là della carreggiata del carcere. Cosa dire? Gli italiani stanno facendo anche essi dei sacrifici ed è giusto che le facciamo un po' tutti, compreso i carcerati. E se per ridurre il contagio ci vogliono delle misure drastiche è giusto che il governo le imponga come cittadini, come detenuti. Per il momento da Palermo è tutto, per i Mera H24 Angelo Neri a presto. Grazie a tutti.